Ciao a tutte, oggi è il 6 di aprile e finalmente farò l'update del Pandate Palette con la Naked un po' in ritardo questa volta ma non importa allora, cominciamo con il primo colore è il Virgin il mio obiettivo era di utilizzarlo 16 volte durante questo mese e l'ho... no, il mio obiettivo era di utilizzarlo 10 volte durante questo mese e l'ho utilizzato 16 volte ok spero di mettere a fuoco l'ho anche ripressato e adesso lo vedete così visto che non ce n'è tanto, per il prossimo mese il mio obiettivo è quello di finirlo possibilmente perché ce n'è veramente poco poi il scene era già finito il colore Naked il mio obiettivo era di utilizzarlo 10 volte e l'ho utilizzato 16 volte ecco qui ha una bella conchetta ma non vedo pen immediati questi ombretti matt ci vuole un pochettino perché si muovono il colore Sidecar il mio obiettivo era di utilizzarlo... ah, mi sono dimenticata per il Naked il mio obiettivo per il mese prossimo è di utilizzarlo 5 volte per il Sidecar il mio obiettivo era di utilizzarlo 5 volte e l'ho utilizzato 5 volte e come potete vedere con solo 5 utilizzi si è già mosso un po' il che non è male poi il colore Back non avevo obiettivi l'ho utilizzato 12 volte e sembra non si sia mosso per nulla e come potete vedere in 5 utilizzi si vede già la differenza su Sidecar in 12 utilizzi non si vede alcuna differenza su Pack questa è la differenza di formula che c'è tra gli Shimmer e i colori Matte poi per Half Baked il mio obiettivo era di utilizzarlo 10 volte non ce l'ho fatta l'ho utilizzato solo 9 volte ma ha un nuovo pen ho un nuovo pen e quindi questo è il mio terzo aggiornamento e questo è il terzo pen che faccio ho fatto 1, 2, 1, 2 e 3 quindi non male direi poi il colore Smog il mio obiettivo era di utilizzarlo 5 volte e l'ho utilizzato 7 volte si vede che qualcosina si sta muovendo nella cialda però c'è ancora poco utilizzo è uno di quelli meno usati per il mese prossimo il mio obiettivo è di utilizzarlo 10 volte per Dark Horse non avevo obiettivi ma l'ho utilizzato 4 volte il mio obiettivo per il mese prossimo è di utilizzarlo 5 volte e poi questi ve li dico assieme perché tanto fa lo stesso Toasted Hustle Creep e Gun Metal li ha utilizzati solo una volta questi ultimi 4 ed ecco qui la palette al terzo aggiornamento tutto sommato non male perché ho un nuovo pen quindi il prossimo mese mi concentrerò principalmente su stavo passando perché ho messo 10 sidecar cambiamo facciamo 5 per il sidecar che ha già il buchino mi voglio concentrare più su Smog che poi non riesco se ho troppi utilizzi per sidecar quindi 10 principalmente voglio concentrarmi su Smog non credo avrò un nuovo pen ma almeno mi porterò avanti con un po' di utilizzi e voglio finire Virgin utilizzare un pochettino sidecar e iniziare ad usare un pochettino Dark Horse e so già che comunque utilizzerò anche Naked e Buck in concomitanza con gli altri e quindi tra aggiornamenti tra pen non credo per il prossimo che per il prossimo avremo un altro pen che si mostri però ci proviamo magari al quinto update avremo un nuovo pen e niente per oggi è tutto vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ciao